Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento sul canale, anche se vedete prova a tempo Olanda in basso a sinistra, in realtà sono di fila, quindi carico questi video tutti di seguito, ma siamo qui per il setup di Monza e vi sorprenderà, ma il setup di Monza ha 6.8 di ala, quest'anno ragazzi si deve salire con le ali perché altrimenti non si curva, 6.8 di ala, 80 di differenziale 63, anche differenziale possiamo mettere tipo anche 90 in uscita, dalla prima, dalla seconda variante, dall'alesmo 2, invece in Ascari potrebbe essere un po' un problema anche alla parabolica, solito campanatura e convergenza, io uso sempre questi, quindi di conseguenza provate questa configurazione anche qui, 1.2.3.8.3.7, cordoli alti, occhio alla roggia non sono proprio simpaticissimi, anche se usi 11.11 di altezza comunque sia, rischi di volare, la macchina con questo setup non è abbastanza rigida, non è proprio facile diciamo curvare per chi ha del sottosterzo, tuttavia è molto prevedibile, dunque potrebbe essere un vantaggio per chi ha le prime armi, bilanciamento freni assolutamente 56, ovviamente poi arriverà l'aggiornamento, questo ve l'ho già letto in un altro video, e queste sono le pressioni per quanto riguarda il Gran Premio di Casa Nostra!